Il 2022 è stato l'anno più critico per l'irrigazione in Lombardia, per fronteggiare il drastico calo delle riserve idriche e diverse le strategie messe a punto che potrebbero tornare utili anche quest'anno. Sentiamo Paolo Gila. Il caldo e la siccità hanno reso il 2022 l'anno meno piovoso e il più critico per l'irrigazione in Lombardia. Le riserve idriche sono calate del 60% rispetto alla media dei livelli negli ultimi 15 anni. Secondo il rapporto annuale elaborato dal centro studi di Ambi, l'associazione che rappresenta i 12 consorsi di bonifica e di irrigazione operanti in regione, l'assenza di pioggia si è fatta sentire particolarmente nei mesi di giugno e luglio in pianura e da maggio a luglio nelle zone collinarie montuose. Si è assistito così a una vera e propria impennata del fabbisogno idrico delle colture nel mese di luglio, quando i 4,6 miliardi di metri cubi prelevati da bacini e corsi d'acqua non sono bastati a fronteggiare interamente le necessità irrigue. Gli operatori cercano così di correre ai ripari. Grazie all'istituzione del tavolo permanente regionale abbiamo condiviso una posticipazione dell'inizio della stagione irrigua, quindi tutto il mese d'aprile è stato utilizzato per bacinizzare, immagazzinare il più possibile la risorsa. A soffrire maggiormente l'anno scorso sono stati i laghi di Iseo e di Como e i fiumi Serio, Brembo, Olio, Adda e Ticino.